La regione Abruzzo da oggi torna in zona gialla, un passaggio che dimostra il trend in discesa dei parametri utilizzati per il monitoraggio del Covid. Questo significa anche meno restrizioni per i 183.000 abruzzesi non vaccinati. Di questi, 64.000 sono gli over 50 che non si sono voluti vaccinare nonostante l'introduzione dell'obbligo. Anche se le multe non sono ancora arrivate, il mancato rispetto ha già provocato ripercursioni per 37.000 ultracinquantenni abruzzesi in età lavorativa. Sono stati infatti già sospesi senza stipendio dal proprio impiego, lo saranno nei prossimi giorni. Sulla campagna vaccinale il responsabile regionale Maurizio Brucchi ha fatto il punto del lavoro portato avanti a livello abruzzese, ma ha anche parlato di quarta dose e del nuovo vaccino NovaVax in arrivo. La quarta dose era nell'aria, era stata già annunciata dal commissario e quindi insomma ci sarà anche la quarta dose. Ma comunque, ripeto, la nostra struttura ha capacità di assorbire aumenti e diminuzioni della campagna vaccinale. In questo momento, dopo la riunione di venerdì, le ASLE stanno iniziando una programmazione riducendo sia in termini numerici ma anche in termini di orario gli hub vaccinali, perché i numeri in questo momento sono bassi, sono numeri bassi, non c'è necessità di una presenza costante sette giorni su sette sul territorio. L'importante è che si mantenga una giusta ripartizione territoriale e che si ha la possibilità di vaccinarsi sia di mattina che di pomeriggio e soprattutto nei prefestivi o nei festivi. Attendiamo in settimana l'arrivo del nuovo vaccino che, a mio modo di vedere, darà un nuovo impulso alla campagna vaccinale. Sul resto le pressioni negli ospedali stanno diminuendo sia sulle rianimazioni e anche sui ricoveri che sono soprattutto ricoveri per pazienti Covid occasionali. non hanno patologie Covid correlate ma hanno altre patologie che scoprono di essere positive. Mi sembra che da questo punto di vista l'Abruzzo volerà velocemente verso la zona bianca perché i numeri si stanno riducendo notevolmente. Intanto prendiamo per buono questo primo ritorno indietro nei numeri e quindi anche nei colori della nostra regione. Poi un anno fa la situazione era totalmente diversa. Direttore, per quanto riguarda il nuovo vaccino, quando sarà disponibile? C'è un ritardo nella consegna di una settimana. Questo mi è stato annunciato dalla struttura commissariale venerdì per cui dovrebbe arrivare entro fine mese, entro il 28. Qui immagino che per i primi di marzo saremo pronti a somministrare il nuovo vaccino.